VORREI DAVVERO CHE MI SEGUISTE COME VOSTRO GENERALE BUONASERA BUONASERA SIGNORINA Ciao, mi chiamo Aladin Volevo tanto parlare con te, signorina Quel turbante Anche io desidero parlarti È un oggetto proveniente da un dungeon, vero? Come? Un manufatto magico al di là delle conoscenze umane È possibile trovarne uno solo all'interno di un dungeon? A dirla tutta, l'ho sempre avuto con me Davvero vuoi invadere il villaggio, signorina? Se è così, ti chiedo di fermarti La nonnina sarebbe triste È solo grazie a lei e agli altri che ho capito cos'è una famiglia Non ucciderli Non ucciderò nessuno Puoi fidarti Io voglio creare un mondo unito Dove nessuno dovrà più morire inutilmente Sono qui solo per questo scopo Devi credermi Sembra che i ruchi intorno a te non abbiano alcun dubbio, signorina Ho capito Proverò a parlare con la nonnina Grazie a tutti Grazie a tutti